Perché abbiamo voluto questo incontro, questa tavola rotonda allargata la città? Prima di tutto perché nel mese di febbraio ci siamo incontrati, poi ci siamo incontrate a maggio con l'altro liceo e anche a giugno ed io mi sono innamorata di voi. Quindi oggi che cosa facciamo? Siamo il liceo Ivo Liveti, il mio vecchio liceo, lo faccio notare, e anche della dottoressa Darcy, al magistrato che verrà a relazionare sulle leggi in vigore in Italia sul maltrattamento e sul femminicidio, sulla protezione della donna.